buongiorno a tutti stamattina vi ho portato un po' più in alto la chiesetta simbolo della nostra comunità della nostra cittadina al peter che fare vi accompagno per qualche minuto a un risveglio consapevole nel momento in cui il sole sta sorgendo e nel momento in cui tutto intorno a noi si risveglia invito quindi a mettervi e a posizionarvi tra la terra al cielo allineandovi lasciate le braccia scendere a fianco al corpo allungate bene bene la colonna vertebrale osservando che i piedi possano premere verso terra e quindi radicarsi al suolo fate un bell'espiro muovete le spalle sentite le vostre articolazioni più alte che si sciolgono lentamente e aggiungete il movimento anche il movimento del collo aprite e tornate aprite e tornate sviluppate e praticate questi movimenti al risveglio in modo da sentire proprio con piacere il corpo che incomincia a svegliarsi ispirando allungate un braccio sollevatevi sulle punte dei piedi puntate in alto e nell'espiro tornate giù e poi praticate sull'altro lato in e adesso e ora tutti e due insieme lascio gli occhi aperti puntati salgo trattengo e nell'espiro torno e ancora in un braccio e in un braccio e adesso e adesso inspiro ed espiro inspiro allungo tutte e due le braccia punto in alto trattengo trattengo e nell'espiro scendo inspiro allungo espiro tempo dell'espiro per tornare osservate di non aggiungere l'ansia la fretta in quello che fate piuttosto sviluppate l'ampliamento dello spazio del vostro movimento inspiro ed espirando torno inspiro allungo tutte e due le braccia trattengo trattengo e quando espiro scendo lascio le braccia cadere prima a terra abbandono il corpo rilasso completamente la colonna vertebrale se ho bisogno piego un po' le gambe inspirando il mento alla gola srotolo allungo di nuovo verso il cielo sollevandomi sulle punte dei piedi trattengo e nell'espiro scendo inspiro srotolo allungo salgo sulle punte dei piedi e nell'espiro torno a scendere mantenendo la colonna allineata abbandono il respiro abbandono il corpo spiro inspiro salgo apro gli occhi apro le braccia apro la cassa toracica trattengo per un momento e nell'espiro torno a scendere ripetete ripetete ancora una volta seguite il vostro respiro spiro e poi abbandonatevi verso terra intrecciate le mani dietro di voi portatele verso il cielo lasciatevi cadere per qualche momento di profonda distensione spiro 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 prima torno e nell'espiro scendo dorsi delle mani al cielo abbandono la testa al collo rilasso inspirando piego le ginocchia le mani si appoggiano sulla schiena srotolo allineo la colonna e quando inizio ad espirare, apro verso il cielo, in ed estro, inspiro ed espiro. In ed estro, inspiro ed espiro, inspirando, tornate in posizione retta. E ora fate un bel respiro, apritevi, raggiungete il cielo anche con gli occhi, fermatevi un momento e poi datevi il buongiorno portando le mani al cuore. Inspiro e salgo al cielo, espiro e scendo alla terra, inspiro, allungo, raddrizzo la schiena e nell'espiro abbandono di nuovo, inspirando salgo al cielo e nell'espiro al cuore, namastè. Salutiamo la nostra giornata, augurandoci ogni meglio che riusciamo ad immaginare. E quindi inspiro, allungo il cielo e nell'espiro scendo a terra. Inspiro, distendo, punto in avanti e nell'espiro scendo, srotano, allungo il cielo e torno al cuore, al centro. Saluto il cielo, saluto la terra, saluto l'orizzonte, saluto l'aria, fino al sole. Accolgo la luce dentro di me, namastè. E ora aprite le vostre gambe. Osservate di avere lo spazio tra le gambe ampio e le gambe tese. Se non vi fanno male apritele un po' di più. Cominciate a fare un bel respiro qui. Sentite la potenza del respiro. Nell'apertura del petto, del torace. Allungatevi bene. E nell'espiro poi scendete da un lato. Distendete tutto il fianco. Restando. Respiro dopo respiro. Godendo proprio dei tessuti del corpo. Che si distendono. Inspiro. E nell'espiro scendo sull'altro lato. E ancora. Punto lontano. E ancora di più. Respiro dopo respiro. Respiro dopo respiro. Inspiro. E torno. In. Al cielo. Espiro. Espiro. E scendo. Da un lato. Espiro. E torno al cielo. E nell'espiro scendo. Sull'altro lato. Inspiro. Ed espiro. Ed espiro. Ed espiro. Inspiro. Ed espiro. torno. E nell'espiro riporto le braccia al fianco al corpo. Girate. Ora un piede in direzione. Volgete i vostri fianchi nella direzione del piede. Il piede dietro è appoggiato e ben radicato a terra. Ispirando. Allungatevi mentre piegate il ginocchio. Inarcate leggermente la schiena. Espandete il petto e il torace. Scendete con il bacino il quanto vi è possibile. Respirate. Sentite la spinta che dalla terra vi sostiene. Puntando. Verso il cielo tutta la forza e l'energia. Sollevate gli occhi. E restate. Le gambe si fanno forti. Stabili. E il cuore incomincia a pulsare. Più forte. Vivo. Inspirando. Tornate. Aprite le braccia. Giratevi lateralmente. E scendete questa volta. Nella figura del guerriero. Le mani puntano lontano. Le spalle sono scese verso terra. E il centro del corpo è vivo. Inspiro. Sollevo il braccio dietro. Appoggio l'altro sul ginocchio. E zorno. Ad allungare bene tutto il corpo lateralmente. Respiro. Inspirando. Inspirando. Distendo il braccio. Distendo tutte e due le braccia. E mi ritrovo nella posizione di trikonasana. In triangolo. Inspirando. Il braccio scendo. Piego il ginocchio. Inspiro. Radrizzo. Ruoto il corpo. Guerriero. Es. Inspiro. Allungo. E nell'espiro distendo lateralmente. Inspiro. Apro. E nell'espiro. Torno verso terra. Piego il ginocchio. In. E nell'espiro. Espiro. Ed inspiro. Espirando scendo. In. Apro. Espiro. In. In. E adesso. Inspiro. Ed espiro. Inspiro. Ed espiro. Inspiro. Allungo di nuovo. E nell'espiro. Torno al centro. Il terreno qua è un po' srucciolevole. E ogni tanto. I piedi mi scivolano. Fate un bel respiro. Intrecciate le mani dietro di voi. Aprite il petto e torace. Spandendo. E nell'espiro. Scendete. Testa verso terra. Braccia distese. Lasciate cadere la testa. Srotolate. lentamente e mentalmente la colonna vertebrale. Passatela con gli occhi della mente. Vertebra dopo vertebra. Srotolo. Srotolo. Risalgo. E torno. Inspirando. Ed espirando. E ora. Girate il piede dall'altro lato. Osservate di essere. Belli. Agganciati a terra. Un po' meglio di me. Fate un bel respiro. E andiamo a girare i fianchi in direzione del piede. E così, ispirando, salgo. Espando il petto, il torace. Inarco quanto è possibile la schiena. I piedi premono a terra. Punto verso l'alto. Respira. Inspirando, torno. E nell'espiro. Giro i fianchi. Apro le braccia. E ispirando, ginocchio, si piega. Lo sguardo sulla mano davanti. Focalizzo la giornata. Il traguardo. E mi sento capace. Stabile. Forte. Direziono il mio intento. Con gioia. Inspiro. E nell'espiro il braccio si appoggia. E l'altro. Accompagna tutto il lato del corpo a distendersi. Resto. Inspirando, distendo gambe, distendo braccio. E mi apro nella posizione del triangolo. Ispiro. Torno e guardo verso terra. Piego il ginocchio. Piego il ginocchio. Spingo. E ispirando. Sono su di nuovo. In un bel guerriero vittorioso. E nell'espiro. Ed in. E poi espiro. Estendo. Ed inspiro. Apro tutti i lati del mio essere. E nell'espiro. E nell'espiro scendo. E ancora. I. Ed est. Ed espiro. Ed espiro. E un'ultima volta. In. Ed est. Ed espiro. Ed espiro. Ed espiro. Ed espiro. Ed espiro. E nell'espiro torno al centro. Fate un bel respiro. Apritevi di nuovo. Esspandete. Il viso verso il cielo. Ringraziate. Il vostro corpo. L'energia che ora sentite muoversi. Percepite come in questa bellissima posizione. Di apertura. Ogni cosa scorre. Dal centro. Fino in ogni luogo del vostro corpo. I piedi sono ben piantati a terra. Come devono essere. E lo sguardo è alto. Come dovrebbe essere. E il respiro. E ciò che ci unisce. Alla vita. Alla sua magia. Al suo mistero. Fate dei bel respiri profondi. Consapevoli. Con l'entusiasmo di accogliere. Ciò che è pronto per noi. Per ognuno di noi. Senza paura. Ispiro. Ed ispirando. Torno al centro. Portate le braccia. Portate le braccia a fianco al corpo. Ritornate in posizione retta. Fermatevi ora a un momento a prendere di nuovo consapevolezza del vostro corpo. del vostro respiro. E osservate. Osservatevi. In questo bel risveglio. Come l'energia ha iniziato a scorrere in modo... Più libero. Ogni cosa si è sciolta. Qui l'aria è fresca. Leggera. E i suoni intorno a me pare che cantino la gratitudine. Tutto si accende e si muove verso il meglio per tutti noi. Sempre. Inspirando salgo al cielo. E nell'espiro. Om Shanti, 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 Om Shanti. Vi auguro una bella giornata. Vi ringrazio di questo bel momento trascorso insieme. Namaste. Vi ringrazio di questo bel momento trascorso insieme.